allora oggi nuovo video è un video sul disegno quindi andrò a disegnare allora andremo a disegnare praticamente questo qui, questo viso di uomo ovviamente all'inizio farò con la matita e poi farò ovviamente i contorni neri e andrò a colorare con il tratto pen e niente, io spero che il video vi piaccia e noi ci vediamo a fine Grazie a tutti 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 Grazie a tutti